Noi rivendichiamo la nostra storia e la difesa dei valori che sono dietro uno scoprizzato, la difesa della famiglia, rimettere al centro della politica, la persona che significa essere più concreti possibili, quindi è un partito di una grande attualità che bisogna riprendere in mano, di organizzarlo territorio per territorio e rilanciarlo, questo è al servizio del paese. C'è una crisi dei partiti nel nostro paese che è la causa poi del male della politica italiana e noi abbiamo il dovere di organizzare dei partiti che abbiano radici profonde. Ci potresti essere a forza perché è un partito che ha una sua storia in questa città, in questa regione e torna protagonista all'interno del Consiglio regionale con delle personalità importanti che stanno dimostrando di saper fare bene politica, facendo la stessa storia, facendo il Consiglio Comunale e vogliamo tornare a rappresentare attraverso le persone che mi sono vicine la nostra storia, la nostra tradizione e riprendere un'iniziativa politica fatta di concretezza.